Nelle scorse notti i carabinieri cunesi hanno eseguito serrati controlli sulle principali arterie stradali denunciando cinque automobilisti, tre per abuso di alcol e due per assunzione di droga. Nel dettaglio a Cuneo un operaio 25enne è stato sorpreso mentre percorreva il centrale Corso Nizza alla guida della sua auto, sbandando vistosamente. Fermato dai carabinieri e sottoposto all'esame dell'etilometro in dotazione è risultato avere un tasso dell'1,5%. A suo carico denuncia per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica, ritiro della patente e sequestro del mezzo. A Savigliano i carabinieri hanno fermato lungo la strada che conduce a Racconici un 45enne di Moncaglieri che sottoposto su strada all'alcol test ha riscontrato un tasso di alcolemia da record pari a 2,8% quasi sei volte superiore ai limiti di legge. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, il ritiro della patente ed il sequestro dell'auto che sarà sottoposta a confisca. Sempre a Savigliano i carabinieri hanno denunciato uno studente diciottenne per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti perché è risultato positivo all'assunzione di droga. Per lui anche l'immediato ritiro della patente con decurtazione doppia dei punti essendo neopatentato e sequestro dell'auto. Ad Alba una donna commerciante trentenne fermata lungo la strada che sale a Diano d'Alba ha riportato un tasso del 2%, quattro volte superiore al consentito. A suo carico è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, ritiro della patente e sequestro del veicolo. Sempre ad Alba i carabinieri hanno denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti anche uno studente universitario 28enne di Cortemiglia. Trovato alla guida della sua auto in stato di alterazione psicofisica è accompagnato per essere sottoposto ad analisi ematochimiche in ospedale e risultato positivo al tetraidro cannabinolo. Oltre alla denuncia ritiro della patente e sequestro dell'auto.